No, non faccio! Ci sono addosso! Ah, è noto! Vincino a quel muro! Mi è quasi piaciuto! Di nuovo! Rinforzi in arrivo! Diavolo! Rafforzati in arrivo! L'ho lanciato! Merda! Lancia una granata! Merda! L'ho lanciato! L'ho lanciato! A posto? Il mio piano ha funzionato! E possiamo andare? Io apro il cancello. Tu pensa alla macchina, ok? Certo! Grazie! Dovrebbe essere questa. A punti il sesamo! Ok! Puoi entrare! Attenta! Come sempre! Ok! Torna al tuo posto! Sono capace di guidare, sai? Certo tesoro, ma preferisco guidare io. Wow! È enorme da coprire! Vero, ma a differenza di Asuna...